Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Nuovo look per Costantino Vitaliano, che con il passar del tempo acquisisce sempre più fascino Un fascino magnetico che ha messo nuovamente in luce sui social, dove ci ha rivelato, tramite un video, di un cambio di look Pazzesco.Il tronista per Antono Masi è ancora oggi molto amato, e pertanto molto seguito sui social Ed è qui, in particolare su Instagram, che si è mostrato alle fan con un cambio di look Il Costa colpisce ancora dritto al cuore delle sue fan, decisamente numerose, con il suo incredibile fascino, dai tratti magnetici Il passare inevitabile del tempo sembra infatti non aver in alcuna maniera scalfito la sua ragguardevole bellezza e la sua straordinaria fisicità Qualità che non passano di certo inosservate. Uno sguardo malandrino e occhi intensi, così come un radioso sorriso, fanno il resto Punto Certamente madre natura è stata molto generosa con lui, ma c'è anche da dire che l'uomo sa come prendersi cura della sua persona, seguendo un'alimentazione sana, varia e controllata e facendo altissima attività fisica, come si può anche notare seguendo i suoi social Ed è proprio qui, in particolare sul suo profilo ufficiale Instagram, che Costantino ha raccontato ai suoi followers del suo recente cambio di look E lui è sempre al top.Senza barba è ancora più bello, lineamenti perfetti In pratica il vitaliano ha deciso di rilassarsi e di affidarsi alle mani esperte della sua parrucchiera, che offre anche il servizio di barbiere, e che ha accettato di apparire con lui in un irresistibile video, dove in primis lo vediamo con ancora la barba, e poi, poco dopo, senza Grazie a questo escamotaggio il suo bel viso è maggiormente esposto e mette in luce i suoi lineamenti perfetti Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao! 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 Ciao!